Grazie a tutti di essere venuti, vi ringrazio tantissimo e approfitto del fatto che il pubblico inizia ad essere abbastanza numeroso per Murito che si ripete tutti gli anni. Allora Rudolfi da un po' di anni a questa parte ha deciso di conferire un riconoscimento a una persona, a una serie di persone nel corso di questi anni che si siano contraddistinte per il lavoro al favore della cultura occitana. L'abbiamo chiamata talga mestre, maestro, da dare di maestro, l'abbiamo data, non so, ad esempio la prima è stata data a Ciappone Boudet, il famoso costruttore di Ghironte, abbiamo dato a L'Eft Lutardo, al compianto L'Eft Lutardo, al professore Dio Citano, organistista, e abbiamo dato a Simundi, a Fredo Valla, una serie di personaggi anche delle nostre vallate. Per la prima volta questa talga non viene data a una persona fisica, non viene data a un'entità, viene data a una radio, all'unica radio delle nostre vallate, una radio che dà un grosso spazio a quella che è la cultura locale, questo per la sua storia, questo per la sensibilità di chi la conduce. E quindi invito le persone di Radio Bayquit, Radio Evangelica delle varie vallese, di venire qui. Se ridete siete degli sconzi perché io non ci vedo, anzi la faccio leggere a lei, che tra l'altro la legge lei perché non ho dimenticato io che non trovo più la borsa, e leggere le motivazioni di questo premio, di questa targa mestre che viene conferita quest'anno a Radio Bayquit. E' da sull'ottoratio della nostra vallata e rappresento un patrimonio vivente, cultura, intelligente, impegno e coraggio per il nostro mondo. Tra i son, Radio Bayquit e tino magistro della cultura ossitano, l'Udelfin, l'Ugur, l'Ugur del novembre del 2014. E' l'unica radio delle nostre valli e rappresenta un patrimonio vivente, di cultura, intelligenza, impegno e coraggio per il nostro mondo. Per questo Radio Bayquit è una maestra della cultura ossitana. e la consiglio delle mani di questi che sono innanzitutto degli amici. Grazie, grazie, bravo. Speriamo di imparare ancora tanta strada. Speriamo di imparare ancora tanta strada.